Sono Gina, ho 28 anni e fra poco ci sposiamo. Come è venuto questo incontro? A Cielo a Mare ho conosciuto. Ah, bravo, a Cielo a Mare, in qualche festa? No, no, siamo conosciuti. Io abitavo a Cielo a Mare, a Carta della Venezia, e il suo cognato, che si chiama Spinuccio, che è il cognato dello sposo, ci ha fatto presentare uno a me. Ah, per quell'occasione vi siete incontrati? Sì. Ho visto, sopra la strada. Ah, e com'è esploso questo amore? Non lo so, diciamo, come un po' con fulmine, diciamo, non lo so. Ah, come un po' con fulmine, dimmi tu, di. Lo fumo, lo fumo. Ah, per te è stato come un fumo, per lei è stato come un fulmine. Quali sono i vostri programmi per il viaggio di nozze? Io ho deciso in crociera. Ah, in crociera. E tu? Tu dove vai? Eh, dove dice lei? Fatto pure io. Ci siamo decisi uguali allora. A me l'hai andata a Cielo. Chi? Eh, andate con l'aereo oppure con la nave? Eh no, io dico con la nave. Dove fate tappa con la nave? Dove andrete, il paese che voi volete visitare? Eh, io voglio visitare Napoli, Milano, la Svizzera e quelli paraggi là, diciamo. Sentiamo Giovanni. Che paese vuoi visitare? Eh, le stesse cose che confinano a lei. Lo stesso? Eh, le stesse cose. Eh, tu di qualche cosa. Eh, di. Eh, dove vado io? Vado le operazioni. Eh, ci siamo decisi insieme. Ho capito. Tu, tu fai insomma, sei quel suo amore. L'ho conosciuta quando stavamo davanti a mio cognato, davanti a casa, a casa, a casa di Zan. Se l'ha mai? Eh, ho visto le prime volte, le seconde, le quattro. Eh, ma ho visto. Andare, ho visto. L'hai vista parecchie volte? Parecchie volte. Ah, e allora tu ti sei innamorato? Eh. E tu ti sei innamorato di me? Domandala a lei. Io mi sono innamorato. E tu? E tu? Gina? Tu sei innamorato di me? Io sì, io sono tanto innamorato di te. Ho visto a diventare anche di te. Eh, eh, eh. E per quanto tempo siete innamorati? Eh, per tutta la vita. Fino alla morte. Ah, bravo. Per tutta la vita. Allora, un bacetto e chiudiamo. Eh. Eh. Com'è il bacio? Un bacetto un poco malizioso, dai. Chiudiamo gli occhi, avanti. Eh, eh. Un bacino. Eh, come vuole baciare che mi baciano io a me. Stati vedere anche di me. Nura, alle tre. NoShaSay not. Ah mi vuole sposarsi a me? Ahmai. Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, non c'è nessuno.